Grazie infinite, grazie mille. Wow oggi mi va di lusso, grazie mille, grazie. Funzionano alla grande, funzionano molto molto bene, ovviamente non è la bancarella del torrone, quindi come sempre dico io, ci si informa in maniera molto seria e professionale, ci si scrive in privato e si segue la presentazione del business. Senti, questi personaggi fanno terrorismo e mettono ansia finché c'è qualcuno dall'altra parte che glielo permette. Io non ho nessun'ansia e nessun terrorismo che subisco perché a Parpiglia non lo sento proprio e la tv non la guardo proprio. È successo che purtroppo uno dei due, il maschio, si è ammalato di cancro e il 3 novembre ho dovuto farlo addormentare ed è stato un dolore enorme, grandissimo, veramente grande, ma proprio grande. Oh, faccio del mio meglio, grazie mille, grazie infinite, grazie. Penso che Djokovic ha vinto, ha vinto contro la burocrazia, ha vinto contro l'ottusità, ha vinto contro la dittatura, ha vinto, Djokovic ha vinto, già vinto su tutti i fatti. Nero, 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 sì, sinceramente sì, sei un pazzo, sei coraggioso, e per carità sei un pazzo, sei coraggioso, ti auguro il meglio, il meglio ti auguro, ma aprire un'attività in questo paese oggi è veramente solo per gente con le palle, perché per come sta messo il paese, amico mio, amico mio, sai quali sono i peggiori schiavi? Sono quelli che non lottano per la propria libertà, ma che lottano perché tu abbia le stesse loro restrizioni, che è poi in qualche modo stato il fondamento del fascismo. Sempre solo armani, come puoi vedere, anche per quello che riguarda l'abbigliamento sportivo, da palestra e per qualunque altra cosa, pure il pigiama, pure i mutanti, pure i dazzettini, pura maglietta della salute. Eh, questa è la scusa che il cervello dà a te stesso per dirti non iniziare, non stai all'altezza, stessa cosa, non ho soldi, non ho tempo, sono quelle stronzate che il cervello ti mette davanti per lasciarti nella tua zona di comfort. Se non hai voglia di metterti alla prova, sono d'accordo con te, non sei a... No, ma per carità, ma da vista stanca, ma per carità. Comunque sì, si possono acquistare gigocoin anche senza fare rete, semplicemente diventi possessore della cripto, dell'unica holding internazionale che vende oro 24 carati. I business per i nulla facenti. Intanto voglio sempre ricordare a tutti che se l'azienda che vi propone un business di network marketing non ha un prodotto, in Italia e in Europa è illegale. Chiaro? Dopodiché sì. E io ti ringrazio infinitamente, grazie mille, ti abbraccio forte. Sabato ho passato una giornata meravigliosa con me stesso, fatto shopping, andato al cinema, sono stato una meraviglia. E' molto vero, quando impari a non aver bisogno di nessun altro, a parte te stesso, raggiungi una serenità notevole. Per imparare a fare network marketing con me si chiacchiera di meno e si agisce di più. Questa come prima cosa, si parla molto poco e si agisce assai per fare network marketing con me. E poi ovviamente si seguono le formazioni che facciamo. Wow, ma questa è una promessa o è una minaccia? Io sto da in palestra dalla mattina alla sera. E sia il mio sport che il mio hobby preferito, prendermi cura di me. Ma in realtà da quando è cominciato questo percorso, grazie al mio coach e grazie al piano G, ho perso più di 10 kg. Ma la cosa bella è che mi sono rassodato moltissimo. Sì, sì, il Venezuela è tra le mie mete future. Sicuramente andrò a Salto Angel, a Los Rockes e al Parque Nacional de Monrocoi. Ci andrò senza ombra di dubbio. La prossima estate sto programmando un'altra cosa, ma in Venezuela ci vado. Ha in cono di wafer e mi piacciono i gusti inguacciati. Ciocco mandorlaccio, nutelloccio, mandorlanuce e nucellaccio. Bellissima. Io utilizzo solo ed esclusivamente olio extravergine di oliva, bio, evo, artigianale e a crudo. Rigorosamente sempre solo a crudo. Grazie a tutti.